Allora, il menu di questa sera prevede di lavorare un pochino sui meccanismi di lettura dei file che abbiamo iniziato ad accennare nell'ultima ora della settimana scorsa. Ricordate, abbiamo fatto una classificazione tra file di testo in formato libero e file di testo in formato strutturato. Partiamo da qualche piccolo esercizio su un file di tipo testo libero così vediamo un po' quali possono essere i tipi di difficoltà che si incontrano. Come esercizio che ci permetterà di vedere un po' di meccanismi di base possiamo prendere questo. Immaginiamo di avere un file che contiene un racconto, una fila strocca come quella che gli ho mandato su Telegram una mezz'ora fa, che è la canzoncina di Mary ha una pecorella che ci fa tornare ai tempi dell'asilo di Udd. Abbiamo questo file e vogliamo creare, leggendo questo file in ingresso, creare un altro file che contenga la stessa fila strocca però una parola per riga. Quindi mentre qui c'è scritto Mary ha la little lamp sulla stessa riga in output dobbiamo avere, vogliamo avere cinque righe diverse una per ciascuna delle parole. E questo lo vogliamo fare attraverso un programmino chiaramente. Allora noi possiamo separare un attimo i due aspetti, in realtà sono i tre aspetti, leggere il file, separare le parole all'interno delle singole righe del file e poi generare il file di uscita. Ok? Al fine sono tre passaggi abbastanza comuni. Ovviamente il programma, perché possa elaborare questo contenuto, dovrà innanzitutto riuscire a leggere il contenuto del file stesso. Noi abbiamo velocemente visto la volta scorsa le varie funzioni per leggere il contenuto di un file di testo. Tipicamente c'è il metodo read che mi leggeva o tutto il file o un insieme di caratteri, il metodo read line che mi dava una singola riga e il metodo read lines che mi leggeva tutte le righe all'interno di una lista di stringhe. Questi tre sono i metodi. In realtà il metodo read line si può anche ottenere usando semplicemente un for, cioè iterando sul file. Ma quindi giocando su questo possiamo, è facile leggere il file una linea per volta, read line oppure con un for, semplicemente, un carattere per volta usando la funzione read con parametro 1, dicendo dammi un carattere, dammi un carattere, dammi un carattere. Quello che servirebbe in questo esercizio specifico sarebbe leggere una parola per volta. Leggi la prossima parola del file. È peccato che non c'è ovviamente il metodo che ci serve, non c'è la funzione che ci serve. E dovremmo arrangiarci quindi con le funzioni che ci sono e con tutto ciò che sappiamo, ad esempio, sulle stringhe. Già un mese fa, o forse anche più, facevamo esercizi in cui c'era una stringa che conteneva più parole, la volevamo dividere in parole singole, poi c'è tutto il problema di come toglierci dai piedi o come gestire la punteggiatura, eccetera. Lo stesso problema ce l'avremmo di nuovo qua, solo che queste stringhe non sono inserite nella tastiera ma sono lette da un file. E quindi giocheremo con gli split, con strip, eccetera, eccetera, con replace eventualmente per passare a ciò che ci serve partendo da ciò che abbiamo trovato. Allora, l'idea potrebbe essere, abbiamo il nostro file, leggiamo la prima riga del file, la dividiamo in parole, salviamo queste parole sul file di uscita e poi passiamo alla seconda riga. Quindi passiamo alla riga successiva e poi quella successiva ancora e così via. quindi in ogni momento il programma non ha bisogno, o diciamo, fatemelo dire al contrario, in nessun momento il programma avrà bisogno di contenere tutto il contenuto della filastrocca. Perché noi per questo esercizio ci basta lavorare una riga per volta. Leggo una riga, le lavoro, mando in uscita le sue parole, le parole che conteneva e poi passo alla riga successiva ma quando passo alla riga successiva non mi interessa più il contenuto della riga precedente. Quindi faccio un'elaborazione che si dice una riga per volta, una riga per righe del file, dove l'unica informazione che mi serve a ricordarmi è la riga corrente. Allora, quando è così, il modo più semplice di tirare su un file è questo, usando il ciclo for che di fatto è fare una serie di read line consecutive. In altri casi ovviamente ci potrebbe servire anche conoscere l'intero file. Ricordo un esercizio che c'è nel laboratorio di questa settimana in cui dice, leggi un file di testo e poi genera un file uguale ma partendo dal fondo, dall'ultima riga verso la prima. Allora in quel caso è chiaro che per poter stampare per prima la riga che è ultima devi memorizzarsi tutte le righe precedenti, ma su quello ci giocate. Allora dicevo, rispetto ai metodi di strip, di split eccetera che già conosciamo, non c'è nulla di nuovo, si tratta di mettere in pratica quello che abbiamo in un programmino che possiamo chiamare filastrocca e possiamo scrivere il codice poi vediamo se sia necessario o opportuno strutturarlo in funzioni. La prima cosa che dobbiamo fare è imparare a imparare a leggere il contenuto del file. Per leggere il contenuto del file definiamo una costante nome del file di input che in questo caso sarà il nostro mary.txt e nome nel file di output chiamiamolo mary elaborata.txt. Abbiamo elaborato mary. Io preferisco definire delle costanti per evitare di avere il nome del file sparso dentro il codice così se dovessimo usare il nostro programma su più file diversi ce l'abbiamo comodo o al limite si possono chiedere all'utente. In questo caso il file che vogliamo elaborare è ben noto ed è questo. Allora il nome del file non è altro che una stringa. Non confondiamo il nome del file con l'oggetto file che mi permette di fare le operazioni sul contenuto del file stesso. Ok? E per ottenere l'oggetto che rappresenta il contenuto del file devo fare l'operazione di open. Quindi abbiamo già visto la volta scorsa file chiamiamolo file di ingresso open. La funzione open ha tre parametri. Il primo è il nome del file. In questo caso devo aprire il nome del file di input. Il secondo è il modo di apertura del file che in questo caso è in lettura R per read, read only. E il terzo parametro è l'encoding che ci abituiamo a scrivere sempre come unicode cioè UTF8. E ricordiamoci subito, conviene ricordarci subito di chiudere questo file quando non ci servirà più. Tra queste due istruzioni, l'apertura e la chiusura del file abbiamo il diritto di leggere il contenuto del file. Prima di aprirlo ovviamente non esiste ancora, dopo che l'ho chiuso non lo posso più usare, chiaramente perché ho staccato la connessione, al limite dovrei riaprirlo nuovamente. Quindi in mezzo a queste due istruzioni open e close c'è la parte di programma che sarà effettivamente in grado di leggere il file. E cosa facciamo? Abbiamo detto, lo leggiamo una riga per volta e abbiamo visto che il modo migliore, più comodo tra i vari metodi, alcuni che avevamo accennati la volta scorsa usando la read line con un ciclo while, è più comodo la stessa cosa riga in file d'ingresso. Allora in questo caso sto usando un ciclo for for in, in contenitore. Noi siamo abituati a for in una lista, in una stringa, in un range, ecco queste sono tutte forme di contenitori. Anche il file si può comportare come un contenitore, un contenitore di linee in particolare, di righe. Quindi questo ciclo for itera sul contenuto del file, il file è visto come un contenitore di righe e quindi ad ogni iterazione la variabile riga conterrà la stringa corrispondente alla prima riga, la stringa corrispondente alla seconda riga e così via. Quindi noi siamo passati dal nome input che era una stringa, alla variabile file d'ingresso che è un oggetto di tipo file, alla variabile riga che è di nuovo una stringa che rappresenta la ciascuna riga del contenuto del file. Non confondiamo mai il file col suo contenuto, col suo nome, sono tre cose diverse. Allora questa qua è la singola riga, cosa devo fare? devo dividerla in parole. Quindi ad esempio dividi in parole e la prima cosa che ci viene in mente è fare uno split. Parole uguale riga punto split separatore spazio. E proviamo a vedere, mettiamoci giù una print di parole. e vediamo cosa fa fino a questo punto. Ok, qui non sto ancora formattando, stampando su un file di uscita, sto solo, questa print qua mi serve solo per capire cosa sta facendo il programma e vedere se va già bene così o va migliorato. Quindi se io faccio un run di questo, allora innanzitutto non dà errore, quindi vuol dire che il file che ha aperto effettivamente esiste nella cartella giusta, eccetera, eccetera. E poi mi stampa una serie di liste. Liste. Perché mi stampa liste? Certo, perché split ritorna una lista. Split prende una stringa e restituisce una lista di stringhe che sono chiaramente i vari pezzettini, i vari frammenti. Questi frammenti nella nostra intenzione corrispondono alle parole che sono presenti su quella linea. E' effetti mer, a little, si sono parole. Poi ci sono dei casi in cui non sono proprio parole, come ad esempio questa stringa qua, che sarebbe l'ultima parola della riga contiene non solo la parola lembe ma anche una virgola ma anche un a capo perché la virgola chiaramente è qui quindi questa stringa qua quando la diviso sugli spazi il divisore lo trovo qua e quindi la sottostringa l'ultima sottostringa ovviamente è questa la split non va a vedere l'alfabeto per lui i caratteri sono tutti uguali tranne il separatore ciò che non è il separatore lo metto insieme anche il carattere di a capo che ricordiamoci nella lettura del file c'è sempre ogni volta che leggo una riga sia che leggo una riga con un read line sia che la reggo tutta insieme con un read lines plurale sia che le elabori con un ciclo for alla fine nella stringa c'è sempre un barrenne finale che spesso ci dà fastidio non ci serve quindi quello che possiamo fare è dire cominciamo a toglierci dai piedi questi barrenne e quindi prima di fare lo split magari tolgo il barrenne che sta a destra quindi riga è la mia riga intera che contiene tutta la riga col barrenne finale punto r strip metodo di stringa che elimina r right da destra elimina restituisce una stringa ricordiamoci che le stringhe non sono mutabili quindi non posso fare come fare se una lista pop dell'ultimo elemento no dell'ultimo carattere devo creare una nuova senza i caratteri finali di tipo barrenne è r perché mi serve solo toccare la destra di sicuro a sinistra di sicuro non c'è una capo e quindi dopo che tolto il barrenne posso fare il mio split e quindi mi avvicino già un po' di più ho tolto dai piedi tutti i barrenne tra l'altro mi accorgo che ovviamente non ho ancora tolto dai piedi la punteggiatura mi accorgo che c'erano nel file della filastrocca delle righe vuote e queste righe vuote vengono lette no una riga vuota nel file come questa come questa vengono lette con una stringa che di un carattere la riga è un carattere cioè il solo terminatore di righe il solo barrenne facendogli l'rstrip per togliere non rimane più nulla quindi questa lista qua vuota in realtà cosa ho fatto? ho una stringa vuota gli ho fatto lo split sullo spazio e vuota era vuota rimane cioè contiene un componente solo che è la stringa intera questa non è un caro particolare è un caro generale se io faccio lo split di una stringa che non contiene spazi otterrò come risultato la stringa stessa o anzi una lista di un elemento che contiene l'intera stringa e questo è quello che mi ha dato poi che questa lista sia questo contenuto della lista sia la stringa vuota ma perché lo era già in partenza non è però a noi diciamo che non serve più di tanto questa cosa quindi magari la prima cosa che potremmo fare è dire cominciamo a non guardare le righe vuote allora non guardare le righe vuote significa ad esempio io prendo la riga tolgo il bar n e poi se c'è qualcosa dentro questa riga vado a vedere le parole l'r strip lo tolgo cosa ho fatto? ho messo su una riga separata l'operazione di r strip ho il bar n lo tolgo e vado a vedere il friga cioè se ciò che è rimasto ha ancora qualcosa dentro prima di fare lo split io e quindi se c'è qualcosa davvero quindi non è la stringa vuota e quindi non è una riga vuota allora poi provo a fare lo split sugli spazi eccetera quindi mi sono tolto dai piedi le righe vuote che mi davano fastidio io qui ho fatto un'operazione riga uguale riga appunto vabbè qualcosa riga era anche la variabile che ho usato come variabile di controllo del ciclo io di solito come regola generale cerco di non toccare la variabile di controllo di un ciclo perché almeno leggendo solamente l'istruzione for se quella variabile non la modifico so esattamente come evolverà guardando solamente la prima riga qui la sto pacioccando dentro ma sto facendo un ritocco minimo quindi non sta modificando la sostanza ricordiamoci però sempre che quando io modifico dentro un ciclo for la variabile di controllo qualunque modifica io faccia all'interazione successiva viene dimenticata perché vado comunque a prendere il prossimo elemento del contenitore l'avevamo visto qualche volta fa quando provevamo incrementare o decrementare un contatore che era generato con un range e il nostro incremento e decremento veniva ignorato perché in ogni caso andava sempre a prendere l'elemento successivo del range quindi nel caso di un for lo tollero forse un while diventa complicato perché effettivamente le modifiche che faccio dentro il ciclo alla variabile di controllo del while vanno a influenzare la condizione di uscita se ci dà fastidio anziché chiamarla riga la chiamiamo in un modo diverso in modo da tenere separato la riga che ho veramente letto dal file pura e cruda rispetto a quella che ho già modificato però è importante essere chiari mentalmente che contiene una certa variabile ok fatto questo abbiamo queste paroline le potremmo stampare una per volta sono tutte pulite no perché alcune hanno vedete una virgola finale un punto finale un altro punto qui eccetera allora possiamo pensare potremmo pensare qua oltre a togliere i barrenne anche di togliere le virgole i punti i segni di punteggiatura cioè così come ho tolto l'ultimo carattere della riga se io metto barrenne virgola questo strip mi cancellerà da destra dal fondo non solo il barra i il barra n perché ne trovo uno solo ma anche le eventuali virgole cioè la strip elimina qualunque sequenza in fondo che sia composta da una combinazione qualunque dei caratteri che ho specificato e quindi c'è la virgola c'è anche il punto perché vedo sotto a questa riga qua c'è un punto può essere una soluzione va beh a parte il fatto che c'è anche il punto interrogativo va bene quindi vedete che adesso la virgola è scomparsa il punto che c'era qua è scomparso queste paroline sembrano tutte fatte bene senza punteggiatura spuria tranne ad esempio la penultima riga che mi frega perché c'è una virgola qua e perché c'è quella virgola lì? perché io non l'ho tolta ricordiamoci che in questo codice lo strip l'ho fatto sulla riga appena letta dal file sull'intera riga quindi ho preso l'intera riga dal file e ho detto guardiamola da destra da destra ci sono delle virgole dei barrenni sì lo tolgo ci sono delle virgole no ci fossero le toglierei ci sono dei punti li toglierei ma nessuno mi ha detto di andare a guardare anche dentro la stringa in questo caso la ripulitura della punteggiatura la devo fare non sulla stringa intera ma sulle singoli pezzettini una volta che li ho spezzati giusto? quindi non va bene non ce la caviamo così facilmente dicendo togli questi caratteri dalla fine della stringa dalla fine della stringa tolgo i barrenni poi qui ho una lista di parole e ciascuna di queste parole potrebbe avere della punteggiatura attaccata vuoi da destra vuoi da sinistra perché da sinistra ad esempio ci sono queste virgolette quindi y ad esempio le virgolette a sinistra e la virgola a destra e quindi vogliamo ripulirle entrambe per ripulirle dobbiamo ripulirle una parola per volta quindi visto che parole sono le singole string io potrei e una lista posso andare a prendere ogni elemento della lista e sostituirlo una lista itero sui singoli elementi e sostituisco a ogni elemento parole di lo sostituirò con se stesso modificato strippando la virgola il punto le virgolette il punto interrogativo mi pare che non ci fosse altro e questo ovviamente lo faccio per ciascuna parola pori in range len parole quindi in questo caso avevo una lista la lista la lista mantengo la stessa ma cambio i contenuti della lista sostituisco le singole stringhe con le versioni ripulite delle stringhe stesse la lista me l'ha creata la split io non vado a creare una nuova lista ma vado semplicemente vedete che vado a modificare i singoli elementi uno per uno e in questo caso direi che non abbiamo più nulla che vorremmo cancellare direi guardate che questa strip senza abbiamo tre funzioni strip la strip la L strip e la R strip la L strip guarda solo a sinistra la R strip guarda solo a destra la strip guarda sia a sinistra che a destra quindi mi ha tolto la punteggiatura davanti e dietro e mi toglie ogni sequenza mangia come un pacman da sinistra a destra tutto ciò che incontra che sia uno di questi caratteri quesito avrei anche potuto scrivere così cioè per non scrivere la valore di i in range ormai siamo abituati a cercare di iterare sui contenitori non sugli indici quando itero for parola in parole in realtà sto iterando effettivamente sui singoli elementi quindi parola assume una per una i vari string i vari elementi della lista quindi a me serverebbe così ma se non ve lo chiedo perché c'è il trabocchetto l'avete capito eh? no se ci sono due parole uguali non è un problema perché mai? questo allora fatemi fare questo tolgo questo e faccio tante print della parola allora prima lo metto senza strip così sto stampando togliamoci questo qua le singole parole però ci sono ancora punteggiature ok? se io prendo questo e ci metto uno strip stamperei troverei no ho separato la splitta ci ha separato le parole e ho tolto la punteggiatura da ciascuna se anche parola acquisisce il valore di parole di 0 1 2 3 se siano uguali che siano diverse è cieca non lo sa le va a prendere una dopo l'altra le elabora una dopo l'altra quindi qua funziona però ovviamente non voglio stamparle ma voglio rimettere al posto dove l'ho prese quindi questa stessa cosa le abbiamo viste sono giuste fiatemi i testimoni le rimetto al loro posto e faccio run vabbè adesso non stampa più niente scusa perché ho dimenticato questa print run allora faccio run e nella lista parole mi trovo di nuovo questa virgola e questo punto e questa virgola però le ho viste prima mi siete testimoni che questa parola punto strip fa la cosa giusta e io l'ho rimesso la stringa modificata l'ho rimessa da dove l'ho presa cioè da questa variabile non funziona questo qua funzionava allora a quest'ora è tardi per avere le illuminazioni cosa fa questa istruzione non proprio lui sta dicendo questa parola è già predefinita nel ciclofore quindi le modifiche che faccio io non servono a niente non è vero perché se io te la stampo qua subito dopo appena l'ho modificata mi viene giusta vedi che la virgola qua non c'è quindi questa modifica la fa dimmi sì ma io nel frattempo l'ho già memorizzata no? passo a quella anche qua vedi che ogni volta i assume l'elemento successivo esattamente questa è la finezza no? ricordiamoci cosa fa Python guarda a destra e fa quel che deve fare parola che cos'è? è un riferimento a un elemento della lista va bene cicloformi gli genera la lista riferimento frecciolina sul primo frecciolina sul secondo frecciolina sul terzo frecciolina sul terzo parola è la frecciolina sul terzo elemento strip faccio roba faccio roba che mi restituisce la stringa nuova frecciolina sulla stringa nuova fin qua perfetto ok? ho una stringa nuova che rappresenta il nuovo contenuto che vorrei dare alla lista lato sinistro sto segnando un valore a una variabile quindi la variabile parola che aveva una frecciolina che andava da qualche parte ma chi se frega perché l'uguale non lo guarda adesso avrà una frecciolina che punta alla nuova parola quindi ho ridefinito la variabile parola ma non ho modificato la terza posizione della lista e come dicevamo prima ho rotto l'alias fino a un attimo fa la variabile parola puntava alla terza posizione della lista poi quando scrivo parola uguale sto separando la vita della variabile parola dalla vita della lista di tre e quindi modifico la variabile perfettamente ma la lista no ok? quindi fino a tanto che io leggo dei valori leggerli passando dall'indice o passando dai valori è uguale quando li devo modificare se io voglio modificare il contenuto della lista avrò necessariamente accedere attraverso l'indice perché altrimenti vado a modificare il valore di una variabile che fino a un attimo fa era sinonimo dell'elemento della lista ma un attimo dopo ho separato questi sinonimi ok? e quindi non sto modificando nulla quindi non ho scritto la versione di sopra perché mi piaceva scrivere di più col range eccetera ma perché sono obbligato a farlo non c'è modo nel secondo caso for parole in parole di andare a modificare la lista se non facendo delle porcate che a volte vedo in giro quindi ve le dico così non me le fate più vedere del tipo eh cacchio però devo modificare il singolo elemento vado a vedere dov'è e quindi cose del tipo i uguale parole punto index di parola no? ritorno all'indice in cui si trova la parola che sappiamo già che uno è stupido perché lo potrei già sapere dove si trova perché sto scegliendo la sinistra verso destra in ordine crescente due è sbagliato perché se ci fosse due volte la stessa parola l'indice mi dà sempre solo la prima ok? quindi iterare sui contenuti e poi chiedersi ma questo contenuto dove si trova? no uno potrebbe dire vabbè ma no ma quell'indice non vuole perché dice che è brutto allora contiamo quante parole ci sono e mi faccio a mano nella gestione dell'indice che il ciclo for con range già mi farebbe da solo l'unica altra alternativa se volessimo usare diciamo così una soluzione basata qua sul ciclo for potrebbe essere la scrivo sotto for i virgola parola in enumerate di parole questo trucco del numerate già lo conoscevamo prende una lista di elementi la trasforma in una lista adesso possiamo dirlo di tuple la prima tupla sarà 0 virgola la prima parola la seconda tupla sarà 1 virgola la seconda parola e io queste tuple me le vado a salvare dentro i e dentro parola quindi quello che potrò poi scrivere qui dentro sarà parole di uguale parola punto se voglio avere dentro il ciclo comodo sia il contenuto senza andare a gizzare sia l'indice per poterlo andare a modificare e numerate mi dà tutte e due da solo senza dovermi contare l'indice a mano questa seconda direi che funziona anche lei giustamente come deve ok quindi la prima va bene questa è un'alternativa ok e questo non può funzionare tutto sto ragionamento che abbiamo fatto non c'entra niente con i file ovviamente però quando cominciamo a incrociare list e string eccetera saltano fuori cose che credevamo di aver capito ok allora se è vero che queste sono le parole che ci servono non ci resta di far altro che stamparle una per riga nel file in un altro file nel file di uscita e dovrò farlo ovviamente dentro questo ciclo for qua perché questo parole qua una volta che l'ho stampato questa variabile all'interazione successiva la riscriverò sopra quindi devo farlo qua sotto quindi oltre a questo print che è il nostro debug di salvezza diciamo che stampa le parole sul file di uscita file di uscita che devo innanzitutto aprire creare per poterci scrivere dentro allora torno su file out uguale open del nome del file output in modalità questa volta di scrittura w encoding sempre lui utf8 e prendetelo come riflesso come scrivo open mi scatta di scrivere close ok così non me lo dimentico queste ovviamente sono fuori dal ciclo for stampa le parole sul file di uscita allora io che cosa ho ho una lista di string io nel file di uscita posso usare il metodo write o il metodo write line o write lines tipicamente se uso write lui si aspetta che il metodo più semplice si aspetta una stringa quindi attenzione non potrò scrivere parole perché parole è una lista di string quindi immagino che se faccio così mi dice di no l'argomento di write deve essere una stringa ciccio non una lista ma nel frattempo però vedete che il file me l'ha creato quindi la open in scrittura l'ha fatta non c'è scritto dentro niente ovviamente e le parole devo scrivere una per una e quindi dovrò iterare for parola in parole write la singola parola allora così si lui write vuole una stringa e io gli devo dare una stringa signo inotante nella lista quindi facendolo così lui gira fino in fondo non mi dice nulla non si lamenta se apro il file di uscita effettivamente contiene tutte le parole in un modo un po' asfissiante perché mi sono dimenticato di andare a capo a differenza a differenza della print che quando stampo qualcosa va a capo la write stampa qualcosa stampa esattamente quello e non si preoccupa di nulla in più quindi se voglio dopo che ho aggiunto qualcosa in un file andare a capo lo devo fare esplicitamente più a capo a capo quindi ricordiamoci una volta che faccio un write mi devo chiedere ma questo qua deve andare poi a capo se si devo aggiungere qui non posso mettere una virgola come farei con la print perché write accetta un argomento solo e deve essere una stringa quindi devo costruire una stringa che sia fatta del contenuto e con appeso questo simpaticone di carattere di a capo faccio run e questa volta vengono giuste ok qui non c'è differenza in lettura c'è la differenza tra read e readline readme legge o tutto il file o un determinato numero di caratteri readline si ferma al primo capo compreso se lo legge poi dobbiamo cancellarlo in write io a seconda della stringa che gli do questa stringa può essere un carattere una riga o l'intero file qui non c'è differenza non esiste un writeline esiste un writelines plurale cosa fa? proviamo a vedere fout writelines writelines riceve una lista di stringhe e le stampa quindi in realtà writelines lo potrei usare se io avessi una lista di stringhe che contengono tutte le righe del file e in unica istruzione l'intera lista la mette sul file una riga per volta quindi in realtà il nostro parole è una lista di stringhe chiaramente non di tutto il file di un pezzo del file ma io lo itero dentro un for farò writelines tante volte e ogni volta mi scrivo un pacco di righe che corrisponde alle parole vogliamo vedere un po' in questo caso eviterei di farmi il for perché se lo fa praticamente la writeline da sola peccato che writelines si funziona nel senso che mi ha scritto tutte le parole quindi ho anziché chiamare write per ogni parola di ogni riga io ho chiamato writelines per ogni riga poi l'iterazione sulle parole se la fa lei però non ci aggiunge il barra n finale e quindi se voglio lo dovrei aggiungere io dentro la mia lista cioè writelines funziona se gli passo una lista di stringhe ciascuna delle quali abbia già il terminatore di riga tanto per essere simpatica e quindi come faccio non è che posso trovare più barra n qui questa è una lista il modo più comodo sarebbe o metterlo già qua sto barra n prendo la parola ripulisco e gli aggiungo una capo che però è un po' bruttino se questa stringa devo fare altre cose avere quel terminatore di riga in fondo oppure costruisco qui qui al volo una lista che contenga le stesse stringhe terminate da barra n con una bella comprehension parola più barra n for parola in parole qui c'è una lista di parole ne creo al volo un'altra che contiene le stesse parole in ciascuna delle quali ho aggiunto un barra n e questo è ciò che passo alla white lines vediamo se è vero sì è vero onestamente mi piace più quello di sopra perché almeno si capisce cosa faccio un pochino più chiaro quello sotto sembra che vuole fare il figo far vedere che hai le funzioni e le comprehension ma anche un po' meno leggibile ma è uguale ovviamente fanno lo stesso lavoro e scrivere su un file alla fine ci sono queste due funzioni write o write lines una vuole una stringa completa di tutti gli a capo l'altra vuole una lista di stringhe anch'esse completa di tutti gli a capo in realtà c'è un altro modo che non so perché tanti libri si dimenticano di citare che la nostra vecchia cara print cioè io potrei chiaramente print print parola lo so fare questo lo so stampa le parole a video però io ho un parametro opzionale della print che si chiama file a cui posso dire senti anziché printarlo sul video mandamela di là nel file di out che è comodissimo perché io mi faccio prima un programma che faccia le print a video lo faccio venire come mi piace e poi alla fine aggiungo virgola file uguale esattamente ciò che stampavo video poi sull'esattamento lo verifichiamo si lo metto nel file e qui posso usare tutto ciò che conosco sulla print cambiare il separatore cambiare il terminatore il sep and mettere più parametri più valori più argomenti separati da virgola usare l'fstring le potevo usare anche prima per carità però a volte può essere una soluzione altrettanto comoda un altro giochino che si potrebbe fare qui stiamo giocando è usare se una lista di string che però voglio stampare su più righe su separate potrei usare la join ricordate di mettere la join che dato un separatore e una lista mi costruivo una stringa in cui gli elementi della lista erano elencati uno dopo l'altro separati da quel separatore lì nulla mi vieta di far sì che il separatore sia proprio il carattere di a capo quindi in questo caso farei qualcosa del tipo join parole se facessi così facciamolo solo a video adesso commentiamo questo per un attimo e questa join già mi questa la lista parole conteneva queste parole qua che sono state separate che ne so mettessi un asterisco me le separa con un asterisco metto barra n me le separa con un a capo e quindi me le fa comparire su righe diverse è un altro modo dei 100 per evitare un ciclo for ovviamente poi la print di suo aggiunge la capo dopo l'ultima parola la stringa che ha stampato è questa in questo caso la print riceve come argomento una stringa la stampa tutta questa stringa c'è dentro degli a capo e vabbè li esegue e poi ci aggiunge un a capo di suo la print che è l'a capo che c'è dopo un lamb se io anziché print usassi write dovrei alla fine aggiungere ancora un più a capo finale però questa è un'altra possibilità tutti i modi per creare file di uscita ok oppure dicevamo fout.write di questa join a cui aggiungo un barra n finale poi voi usate quella che preferite io probabilmente preferisco questa perché è impossibile non capirla e alla fine sono due righe anziché una lunga ecco due righe corde anziché una lunga però l'importante è saper seggiostrare al momento del bisogno quindi questa elaborazione di file di testo alla fine è un grosso lavoro del tipo cosa uso come lettura come comando di lettura cosa uso come comando di scrittura e poi tutto in mezzo si lavora di stringhe di stringhe e di liste per esercizi semplici in cui prendo leggo e lavoro e stampo vabbè qui ci fa ci fa il compendio di rstrip eccetera ma noi l'abbiamo già risolto qui c'è soluzione fatta un po' per volta no scusate stavo leggendo le descrizioni di split lines perché non mi ricordavo cosa fosse split senza argomento separa dove ci sono gli spazi split lines potrebbe servire se ho una stringa unica che continua tutto il file e devo separarla sui barren quindi è equivalente a dire una split sul carattere barren anziché sullo spazio non mi ricordavo cosa fosse ok la lettura di un carattere per volta quindi questo se vogliamo con le varie varianti che poi vedrete negli esercizi alla fine no è il tipo di operazioni che possiamo fare leggo una riga la tratto come stringa e ci faccio delle cose perché alla fine non sappiamo cosa ci può essere in quella riga cioè lui l'unico concetto che siamo riusciti a mettere in questo esercizio è il concetto di parola e il concetto di punteggiatura ma perché se è un testo libero non è che ci sia molto altro diverso è quando vogliamo lavorare con dei file che contengono dei dati che devo dire che è la grande maggioranza dei casi e in questo caso i dati non li avremo scritti liberamente un po' così come ci viene artisticamente dentro il file ma saranno ordinati e strutturati in un certo modo in questo caso noi diciamo che un file contiene molti dati organizzati usiamo questa terminologia a record a schede o record e questi record possono essere composti e normalmente sono composti da uno o più campi che ne so l'elenco degli studenti è un file con tante righe tanti record uno per ogni studente e il record di ciascuno studente la scheda di ciascuno studente contiene matricola cognome nome luogo di nascita tutte queste belle cose che sono i campi che descrivono il record tendenzialmente i campi presenti sono gli stessi per tutti i dati per tutti i record tutti hanno un nome tutti hanno una matricola tutti hanno un cognome cioè l'insieme dei campi che descrivono un record è uguale chiaramente poi i valori dei singoli campi sono diversi nel caso più semplice questo è quello che finora abbiamo parlato in astratto ci sono dei dati i dati sono fatti da tanti record i record sono fatti da tanti campi i campi sono tutti uguali i valori dei campi sono tutti diversi ok in pratica il modo più semplice di rappresentare queste informazioni non è l'unico assolutamente è quello di rappresentare un record per ogni riga di un file di testo rappresentiamo i dati in un file di testo in cui i record sono uno per riga allora se è così io posso pensare di leggere scrivere lavorare un record per volta lavorando una riga per volta nel file ad esempio qui c'è un esempio un frammento di quello che potrebbe essere un pezzo di un file di testo che contiene il nome di una nazione e la popolazione di quella nazione popolazione superficie cos'era popolazione di quella nazione sotto forma di numero allora quel file potrebbe avere tre righe o potrebbero ne cento non mi importa e ogni riga è dello stesso tipo un record rappresenta un'azione di una nazione questo record contiene due campi il nome e non la sigla ma il nome la descrizione e la popolazione ogni riga del file contiene informazioni su una nazione e ogni riga del file è divisa nei due campi in questo caso questi due campi sono separati dal carattere di due punti questi due punti in questo esempio agisce come separatore di campo quindi un separatore di campo deve essere un carattere che non può comparire nei dati veri e propri se no non si capirebbe più nulla non posso usare come separatore di campo lo zero che magari compare nel numero della popolazione e quindi non si capisce di quanti campi è fatto no userò un carattere tipicamente una sequenza di caratteri che non compare normalmente nei dati quindi questo file alla fine è separato su due livelli i record sono separati dagli a capo quindi se uno fa uno split sul barra n separa i record tra di loro e i campi di ciascun record sono separati beh in questo caso da due punti quindi se faccio uno split su due punti mi dà i singoli elementi i singoli campi del record corrispondente alla riga corrente è la riga che ho appena letto del file oh tutto questo ovviamente il file non lo sa il file lui dentro l'anima è una stringa uno stringone con tanti caratteri siamo noi che chiaramente lo sappiamo interpretare in questo modo lo usiamo in questo modo poi ci sono casi malati no ad esempio le stesse informazioni potrebbero essere rappresentate così malati questo non è neanche tanto malato dove ad esempio magari quelle stesse informazioni sono rappresentate un campo per riga anziché un record per riga quindi in questo caso i nostri record hanno due campi e quindi ogni record occuperà due righe la prima riga è il nome del primo record la seconda riga è la popolazione del primo record poi la terza riga è il nome del secondo record la quarta riga è la popolazione del secondo record e così via andando è un pochino più scomodo perché non devo perdere il filo non devo perdere il conto dei pacchetti di righe ma in entrambi i casi sia prima che dopo devo sapere che ogni record è fatto a due campi qui la stranezza è che uso il separatore di campo cioè la capo uguale al separatore di record che è anche la capo quindi dovrò fare un pochino più di attenzione quando faccio lo split poi devo andarmi a prendere quelli dispari quelli pari separarli elaborarli diversamente però a parte questo è un pochino più scomodo per questo si usa di gran lunga di più il formato un record per riga perché è più comodo da elaborare nel caso in cui ci fosse un campo per riga vedete che questo è un esempio ma questo formato qua non approfondiremo perché poi non si trova però per trovare un dato devo avere una lettura che mi dia il country name e un'altra lettura read line che mi dia la popolazione senza poi dimenticare tutte le volte che leggo qualcosa per fare l'rstrip per cancellare barren e tutte queste belle cose e poi finalmente posso elaborare il dato altrimenti non avrei bisogno di questa doppia operazione ok anche qua possiamo pensare di elaborare il file in un unico solo boccone quindi con una read read mi da un'unica stringa che contiene tutto il file in quel formato lì se poi vogliamo dividere anzi vorremmo di sicuro dividere in linee possiamo usare split barren oppure split lines di cui ho parlato prima che prende una stringa e mi dà una lista di stringhe separandole nel barren piccolo dettaglio se uno split lines il barren vengono tolti perché ovviamente ha il carattere di splitting e quindi se lo mangia lui oppure posso usare read lines che fa la stessa cosa che fa una read intera e poi dividere sul barren e mi legge tutto il file in una lista di stringhe alla fine su questo titolo leggere l'intero file alla fine quello che otterrò sempre è una lista di stringhe sono metodi diversi alternativi per fare la stessa cosa quindi read lines è un metodo che fa la lettura e già mi restituisce una lista di stringhe che si può anche scrivere così in un modo un po' strano sfrutta due cose che già sappiamo ma le mette insieme in un modo un po' strano una cosa che sappiamo è che un file l'oggetto che rappresenta il file è un contenitore è un contenitore di che cosa? delle righe la funzione list crea una nuova lista a partire da un contenitore resistente l'abbiamo usato per fare copie di liste ecco però se anziché accoppiare la funzione list a una lista esistente la copiamo in qualunque altro contenitore compreso un file lei mi crea una lista col contenuto di questo file cioè con le righe di questo file si può scrivere ma rispetto a scrivere read lines che è un pochino più esplicito e chiaro rischia di passare inosservato che qua con questa istruzione mi sto leggendo il file altrimenti leggo una riga per volta come abbiamo sempre fatto ecco prima di andare avanti con l'esempio volevo solo accennarvi una piccola scorciatore sintattica che è l'istruzione il costrutto non è un'istruzione non è una funzione ma si chiama un costrutto che si chiama with vedete che c'è il due punti quindi delimita un blocco di istruzioni with apre non la voglio fare lunga perché è abbastanza complicato siamo con il livello interno però diciamo che apre un contesto in cui vive una certa variabile una certa risorsa che io ho creato che ho aperto in pratica cosa fa with open esegue l'operazione open e apre un contesto in cui il risultato di questa apertura è disponibile quindi è la stessa cosa che scrivere out file uguale open di file name qual è la differenza è che quando si chiude il contesto quando finisce l'istruzione with quindi quando torno indietro con l'indentazione del codice la risorsa viene liberata automaticamente cioè il file viene chiuso in automatico se rischiate di dimenticarvi di fare la close usate la with che fa la close da sola di fatto la close avviene automaticamente il vantaggio principale è questo chiude l'oggetto file automaticamente quando raggiungo la fine del blocco è una piccola sconcettura sintattica anziché file uguale open si scrive with open as nome dell'oggetto file che poi userò dentro il blocco sono scritto al contrario con as anziché con uguale allora proviamo a immaginare il primo lo vediamo risolto nelle slide secondo lo proviamo a fare insieme questo esercizio pensa di farci lavorare su un file strutturato che si chiama estremi.dat che contiene dei punti coordinate di punti sono punti questi x y coppie di numeri interi una coppia per riga quindi siamo di fronte a un file di dati strutturato che contiene record fatti da due numeri interi separati da spazio quindi ogni riga conterrà numero intero spazio numero intero barra n l'esercizio ci chiede di calcolare un secondo file che contenga la differenza tra x meno y per ciascuna riga quindi questo meccanismo di elaborazione è di nuovo una elaborazione riga per riga leggo la prima riga estraggo il valore di x e y faccio la sottrazione genero la riga in output e passo la riga successiva molto simile a quella della pecorella e qua come suggerisce di risolverlo ad esempio lui prende apre il file di ingresso il file di uscita qui si è dimenticato ma lo conosco chi ha fatto le slide si è dimenticato sono io di mettere l'encoding dopo che ho aperto entrambi i file posso leggere il primo file una riga per volta e qui parliamo solo di righe siamo nel mondo delle stringhe non sappiamo ancora i dati poi viene fatto uno split della linea in questo caso split non ha parametri quindi splitta sugli spazi ottenendo una lista di due elementi in questo caso due elementi che sono ancora string ok allora questi due elementi saranno il primo elemento sarà 23 anzi la stringa che contiene 2 e 3 il secondo elemento è la stringa che contiene 3 e 2 a capo 3 e 2 caratteri a capo perché l'acapo qui l'ho letto e qui non l'ho tolto quindi dopo lo split ci rimane appeso all'ultimo elemento in questo caso non è così grave perché queste due stringhe le sottopongo a int entrambe e la funzione int come prima cosa va a ignorare spazi non punteggiatura no spazi a capi tab in gioco si chiama white space caratteri non visibili sia davanti che dietro quindi la funzione int è come se internamente facesse già un primo strip di ciò che sta intorno e quindi questo a capo non mi dà più fastidio allora numero di zero numero di linea numero di zero attenzione che è una stringa quindi devo convertire l'intero questo è un errore frequente quando io leggo dei numeri quasi così come speranza sarebbe che split mi desse già una lista di numeri cacchio sono numeri però split non lo sa e mi dà una lista di stringhe sempre di stringhe allora quello che io vi suggerisco è quando io leggo una lista di stringhe che in realtà contiene dei numeri come prima cosa prendete sta roba e convertiteli in numeri perché altrimenti nel programma vi portate avanti cento volte in cento posti diversi una lista di stringhe tutte le volte che usate un elemento dovete metterci int davanti e prima o poi vi dimenticate quindi se sono numeri facciamoli diventare una lista di numeri subito appena li ho letti in questo caso il programma è talmente scemo che non vale la pena calcola li prende li converte in intero fa la differenza tra numeri interi e questa differenza viene stampata sul file di uscita in questo caso ho usato write e ci ho dovuto mettere il numero seguito la barra n quindi visto che write riceve una stringa sola non potevo scrivere dif che è un int sarebbe stato un errore avrei dovuto scrivere str di dif convertimelo in stringa ma è molto più veloce in questi casi usare l'fstring per interpolare i valori quindi faccio la conversione dentro l'fstring l'fstring non è una caratteristica della print si può usare in qualunque operazione di string quindi compreso anche il numeri e poi mi sono ricordato di chiudere sia il file di ingresso che il file di uscita il file di ingresso ovviamente era finito ho già letto tutto perché questo for ne ha esaurito i contenuti e il file di uscita sarà pieno qui c'è la versione leggermente diversa usando readline cambia solo perché anziché scrivere for line in scriverò readline e dovrò testare se questa linea è diversa dalla stringa vuota che ricordiamoci la stringa vuota è il valore sentinella della readline che ci dice il file è finito non rappresenta una riga vuota perché la riga vuota è rappresentata nella stringa di un carattere barra n carattere di a capo singolo carattere di a capo invece la stringa veramente vuota è la fine del file la sentinella che indica la fine del file e poiché devo testare un valore sentinella abbiamo capito che l'operazione di lettura lo facevamo da sempre dobbiamo sdoppiarla in una da fare prima della prima iterazione e una da fare come ultimo elemento dell'iterazione in preparazione dell'iterazione successiva questo è ciò che ci deve fare che dobbiamo fare usando un while per qualunque tipo di lettura che sia basata su un valore sentinella preparo il primo e poi come ultima istruzione prima di tornare su preparo il prossimo non c'è nulla di diverso rispetto a quando facevamo le input da tastiera ok proviamo invece a fare o almeno impostare sicuramente solo impostare quest'altro esercizio che ho proposto qua sulle slide di cui vi avevo condiviso i due file txt su cui si basa e ci dice guarda tu hai due file che contengono rispettivamente uno la superficie di una serie di nazioni del mondo e l'altra la popolazione di queste stesse nazioni in questo formato noi possiamo anche guardarli in faccia questi file popolazione e superficie separati da un misto di spassi e tabulazioni io adesso non so se riesco a vedere no non riesco a trovare se c'è nozione per farlo perché vedete che se io mi sposto col cursore qua vado avanti di una posizione e qua va avanti di un blocco mi sto spostando solamente di una freccia perché questo qui non è uno spazio ma è un carattere di tabulazione ok cosa dice asci 8 se non sbaglio la tabulazione è un altro che è uno spazio che però mi fa allineare al prossimo multiplo di 4 o multiplo di 8 a seconda della dimensione del tab che è indicato qua è per questo che questi valori sono incolonati in un modo un po' strano non sono separati solo da uno spazio ma da una combinazione di spazi e tabulazioni vabbè però è sempre quello che chiama la funzione split chiama white space roba bianca roba trasparente e quindi lo split funziona quindi potrei leggere una per una queste righe faccio uno split sullo spazio e poi lavoro i dati avrò nella parte sinistra il nome e nella parte destra ci faccio un int sopra e ho il numero che mi indica in questo caso l'area o la popolazione in un altro file c'è però un problema perché ci sono delle nazioni che al loro interno contengono lo spazio e quindi se io facessi uno split sullo spazio questa riga qua non mi darebbe una lista con due elementi ma una lista con tre elementi e questo mi darebbe una lista con quattro elementi quindi dovrò usare una strategia un pelino più sofisticata io di strategie qua ne vedo tre una che sarebbe la più semplice ma non mi fido andando avanti con il cursore mi sembra che per tutte le nazioni ci sia uno spazio e un tab uno spazio e un tab uno spazio e un tab e così via uno spazio e un tab se così fosse però non c'è scritto da nessuna parte quindi devo fidarmi o le controllo tutte a mano tutte 238 l'ultima spazio tab allora se fosse così se fossi sicuro che è così se mi fosse garantito che è così la slide non mi dice niente dice ah ti fai a questo è bravo spiegami bene qual è la regola con cui è stato fatto allora se fosse così io mi risolvo i problemi perché faccio uno split sul tab splitto queste stringhe sul carattere di tabulazione che se c'è davvero sempre c'è solamente tra nome e numero quindi sono valori separati da tab non valori separati da spazio il tab tra l'altro se lo voessimo usare dentro una stringa si indica un barra t barra n new line barra t è il tab quindi questo sarebbe il modo più semplice se mi fosse garantito che questo file è fatto così un secondo modo è quello di dire senti pazienza facciamo una split e mi verrà fuori una lista che può avere nel caso fortunato degli stati facili da chiamare due elementi il primo il nome e il secondo il valore da convertire in int nel caso degli stati più complicati mi verrà fuori una lista che avrà tre quattro cinque elementi eccetera di cui l'ultimo è sempre il valore quelli prima che mi sono venuti come pezzi di stringa li posso riattaccare rincollare di nuovo in un'unica stringa che è una join quindi avrò una stringa una lista di cinque elementi la converto in una lista in cui il primo elemento sarà la join dei primi quattro e il secondo elemento sarà l'int dell'ultimo quindi visto che la split spezia in altri punti io ho un punto fermo nel primo caso mi agganciavo al punto fermo c'è il tab che separa in modo univoco nel secondo caso il punto fermo è l'ultimo elemento è un dato tutti gli altri sono il nome quindi tutti gli altri siano uno due sette otto non mi importa ho la regola ferrea a cui agganciarmi se già ci fosse un altro numero in mezzo non è più tanto vera questa regola ma in questo caso solo due dati il primo è l'ultimo pezzo l'altro dato è tutto il resto e questo in realtà mi porta alla terza idea strategia che è quella di usare ad esempio la funzione r split ad esempio ve la cito qua poi dopo vi lascio così possiamo provare a giocarci e poi la vediamo insieme mercoledì la funzione r split è una funzione tipo split la funzione split ha un parametro in più la split normale che mi dice quanti campi convertire quindi se io avessi una stringa del tipo a b c d e punto split la divido ovviamente in una lista di cinque elementi ma se io gli dico che ne voglio al massimo due scusate come si chiama max split max split uguale due lei cosa fa li separa il primo il secondo e tutto il resto lo lascia non separato vedete che alla fine ho sempre una lista ma i primi due elementi sono gli elementi separati e poi una coda che contiene tutto il resto di cui non è andato a guardare dentro non li ha separati split quindi parte da sinistra estrae un po' di pezzettini e poi mi lascia la coda indistinta r split fa la stessa cosa ma partendo da destra quindi in questo caso io farei una r split con max split uguale 1 e mi da partito da destra quindi secondo elemento che corrisponde all'ultimo elemento e poi ciò che sta a sinistra non è andato a dividere dove c'erano gli spazi anche se c'erano in questo caso c'erano anche ci fossero stati in questo caso c'erano non li ha guardati perché ok mi hai chiesto massimo di dartene uno io te l'ho dato uno e poi ti lascio il resto che te lo vai a vedere come vuoi quindi in questo caso sarebbe la versione più semplice anche per queste nazioni poco simpatiche e ce le separa giuste così in un blocco solo quindi il caso fortunato è quello in cui io possa dire guarda questa qua splittamela sul carattere di tab perché c'è alla fine devo sempre riuscire a trovare un modo deterministico per poter dire per poter separare le informazioni che mi servono ok allora questo provate a giocarci lo scopo dell'esercizio è quello di calcolare e stampare la densità di popolazione quindi il rapporto tra area e popolazione e superficie e creare un altro file analogo sapendo che le nazioni sono le stesse e sono in ordine alfabetico fossero rimescolate sarebbe molto più complicato buona serata e buona continuazione grazie a tutti grazie a tutti